Buongiorno. Oggi vi presentiamo un'esclusiva abitazione indipendente con giardino privato, situata in uno dei quartieri più desiderati della città, San Paolo Piscine. Soluzione singola ed introvabile, si posiziona a pochi passi dalle fermate dei mezzi pubblici, dalle piscine e centri sportivi, oltre che del liceo quadri, istituto scolastico superiore divenuto polo attrattivo per i ragazzi della città. La proprietà si estende su due livelli abitativi fuoriterra, offrendo spazi ben organizzati e ricchi di comfort. Al primo piano, la residenza sviluppa un elegante ingresso, con ampio soggiorno dotato di camino e pavimenti in legno, che si apre su un'invitante terrazza. La cucina è di dimensioni abitabili, funzionale e accogliente con camino ad angolo. Completano gli spazi di questo livello tre camere da letto, tra cui la spaziosa suite matrimoniale con bagno privato ed uno studio con accesso ad un ulteriore terrazzo. Al piano terra, l'abitazione accoglie una taverna, bagno, wc, lavanderia, studio, cantina, ripostiglio ed un ampio garage. Questo livello può essere reso completamente indipendente, grazie alla possibilità di accessi autonomi con spazio ideale per ricavare un appartamento dedicato ad un figlio indipendente, ad un genitore che si voglia avere vicino in un ambiente privo di scale o per sviluppare una propria attività professionale. Per maggiori informazioni o per prenotare una visita, non esitare a contattarci.